Al comunale di Massamartana stanno scendendo in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia d'eccellenza a fase nazionale l'atletico BMG in tenuta fucsia e l'osimana in casacca nera. Pronti e via, gli uomini di farsi si rendono subito pericolosi. Dal limite Proietti lascia partire una bordata che colpisce la schiena di un difensore e finisce in angolo. Settimo, ancora pericolosi locali, questa volta è sciacca ad incunearsi in area e calciare, ancora un difensore libera con affanno. Ventisentesimo, bella azione degli ospiti che entrano in area con Moschera che calcia a botta sicura ma è superlativo Battistelli che para a terra. Trentanoesimo, atletico pericolosissimo, ancora con Proietti il cui bolide viene deviato da un attento Santarelli. Quarantaquattresimo, simana pericolosa, Alessandroni mette in area un pallone per Tittarelli, salva egregiamente Angeli. La ripresa, per venti minuti si gioca preventivamente a centrocampo con nessuna azione degna di nota. Bisogna arrivare al ventitresimo, cioè al vantaggio dei locali, tutto sull'asse Italo-Argentino-Venezuelano. Canavese, lavora un pallone al limite per Sciacca che di testa manda il pallone in area dove Paletta è più lesto di tutti e fulmina Santarelli per lo 0-1. Al venticinquesimo, l'osimana è pericolosa, gran tiro dal limite para Battistelli. Ventisettesimo, ancora Battistelli che anticipa Alessandrelli e blocca. Al quarantesimo, l'arbitro deve sospendere qualche minuto per tiro di cose nei confronti dell'assistente. Quarantaquattresimo, grande parata di Battistelli su tiro di Buonaventura. Cinquantunesimo, Maggese a tu per tu con Santarelli si calcia addosso al portierino ospite. Dopo sei minuti di recupero termina la gara con la vittoria e la qualificazione dell'Atletico BMG ai quarti di finale.